Ho trovato una centrale ovviamente in buono stato di salute, il lavoro fatto fino allora ovviamente era eccelso, è un lavoro che ovviamente come tutti ha bisogno di continui aggiornamenti, di una sorveglianza e di grande stimolo sul personale. E' questo il primo bilancio da ormai un mese, infatti è il dottor Simone Nocentini, valdarnese già responsabile dell'area pronto soccorso e medicina d'urgenza area provinciale a retina e direttore del pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno a guidare la centrale del 118 di Arezzo a seguito del pensionamento del dottor Massimo Mandò. L'ambiente qui è buono, si lavora in maniera adeguata, ci sono grandi professionalità, è ovvio che è un ambiente che risente delle difficoltà dell'emergenza, che sono quelle appunto di reperire personale medico, di avere sempre risorse adeguate a quelle che sono le esigenze del momento, però insomma io vedo il futuro in maniera abbastanza rosea pur con le difficoltà. Quali sono le nuove sfide? Le nuove sfide sicuramente sono legate alla tecnologia perché fin dalla prossima settimana noi avremo a disposizione un nuovo tablet che ci consente di informatizzare tutta la scheda di servizio, quindi tutti gli interventi, sia per quanto riguarda gli interventi con il sanitario, sia per quanto riguarda soprattutto poi gli interventi anche da parte delle BLSD, quindi degli interventi senza sanitario. Però questo vuol dire governare il sistema, vuol dire avere dati e avere anche la possibilità proprio di reperire sul territorio le risorse più adatte a un particolare tipo di intervento. È ovvio che è una situazione, diciamo così, in divenire perché il mondo dell'emergenza è in grande sofferenza. Dobbiamo noi tenere conto sia del territorio ma anche della realtà dei pronto soccorso e quindi dobbiamo fare in maniera che il cittadino si senta protetto, che il cittadino sia protetto e che soprattutto il sistema funzioni nel migliore dei modi.